A distanza di oltre 15 anni, domenica 1 ottobre alle ore 15, torna l'attesissimo derby tra Teramo e Giulianova in programma per il campionato d'eccellenza. Partita che si svolgerà come da calendario lo stadio Bonolis a pieno d'accio a Teramo a porta aperte, senza limitazioni, nonostante le preoccupazioni iniziali. E' questa la decisione presa al termine della riunione per l'ordine a sicurezza pubblica sulla partita, convocata dal prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, alla quale hanno partecipato forze dell'ordine e sindaci di Teramo e Giulianova. Siamo mossi con largo anticipo, come sappiamo la partita è fra dieci giorni e nel frattempo ci sono altre due giornate di campionato. Però era giusto cominciare a pensarci, a lavorare perché sappiamo benissimo che è un derby molto sentito, un derby con una rivalità storica, non solo fra le due squadre ma anche fra le due città e che ritorna dopo 15 anni. Non mi piacciono espressioni tipo preoccupazione, partita a rischio, stadio blindato, noi faremo di tutto per prevenire ogni tipo di incidente, ogni tipo di contatto fra le due tifoserie, ovviamente se dovesse succedere qualcosa non potremmo che essere inflessibili con la tolleranza zero cosiddetta, ma faremo di tutto perché sia una partita di calcio e al di là che possa finire in pareggio comunque vinca il migliore, perché ovviamente siamo super partes. In vista della partita si sta pianificando l'organizzazione degli ingressi in particolare per gli ospiti, in modo da evitare il contatto tra le due tifoserie. Stiamo valutando tutte queste cose e verranno poi definite nel tavolo tecnico della questura, come sempre, sì, i tre filoni sono l'afflusso dei tifosi delle due tifoserie, la partita, quindi quello che avviene dentro lo stadio durante i 90, anzi ormai 100 minuti di calcio giocato e poi il deflusso, quindi poi la gestione anche dei parcheggi, delle due strade di collegamento principali, fratteremo Giulianova, quindi la statale nuova e la statale vecchia e quindi ora piano piano sviscereremo tutti gli aspetti più critici cercando di prevenire, faremo di tutto per prevenire evitando ovviamente interventi repressivi e cattivi, ma se serve dovremo fare anche quello. Dunque per il primo ottobre è facile prevedere che la partita si giocherà davanti a oltre 2.000 spettatori, forse quasi 3.000, visto che già la prima in casa è il Teramo staccato, 1.070 biglietti e che da Giulianova arriveranno in centinaia. Quindi porta aperte a tutti i tifosi, ovviamente poi l'appello va fatto proprio da loro. Esattamente, che sia una festa di sport, che lo sfottò ovviamente ci sta perché la rivalità è giusto anche che ci sia, e qui ci si fermi alle parole, insomma noi faremo di tutto, però appunto l'appello a entrambe le tifoserie perché ci si goda una domenica al netto ovviamente che tutti vogliono vincere, questo è ovvio.